Siamo qui alla partenza della tappa Cittadella Zoncolan nell'azienda Lago Biscotti, è una bellissima realtà perché è una realtà piccola che però si è approcciata al mondo del ciclismo quest'anno, spero con risultati positivi, a quanto vedo ci sono molte persone e molta presenza quindi sicuramente avranno gradito il fatto di essere presenti come sponsor al Giro d'Italia e speriamo che in futuro si impegnino un po' di più. Io tra l'altro sono proprio qui di Castelflanco Veneto, abito qua vicino e ho sposato una gallierana, una ragazza di galliera che è mia moglie Daniela e quindi mi fa veramente onore avere un'azienda che conosco dentro il mondo del ciclismo. Grazie a tutti.